salve a tutti ragazzi come avevamo detto eccoci qua con la parte 2 tutti sei no no è tornato di nuovo per la seconda volta e ora cominciaremo con un secondo a case del 25 anniversario e oggi aprirò io le danze come mai prendo questa iniziativa perché sono volenteroso soprattutto voglioso di no perché non vuole solo sbustare si è rovinato vuol dire che c'era un sacco di roba buona quanti perché ammattato la prima del fireball dragon come la prima bene sarà un buon segno lo scopriremo solo vivendo partiamo dalla prima sbusta sbustosa visto la prima parte già sapete cosa si trova qua dentro quindi faremo un pochino più veloce un po' di terion però di preta piante di griffon di romarfia questa non è riuscita mancuna nella prima parte nella prima parte è riuscita un blackwing zonda the dusk maple maiden amazoness petliger king water and chandress of the temple very nice very nice non male come prima era da segrete cioè l'altra è un po' meno vabbè c'è un tigrotto un tigrotto da compagnia molto incazzato molto incazzato l'illegal night non era uscito nella prima parte simur bird of perfection è un bello bellion a prima botta è una runic fountain wow ragazzi questo è tipo il tin dei sogni praticamente sia così così popopopo ok io nella prima parte l'abbiamo trovato pure uno quindi va bene nell'ultimo tin mi pare nell'ultimo nel no nell'ultimo no nell'ultimo no nella prima ice jade è real i ultimi saranno i primi esatto i romans abbanded ice jade curse ti maius the united dragon e non è la punta mamma mia signore e signori probabilmente il miglior team che uno potrebbe mai aprire bene in effetti si è molto molto verino mettiamole qua bene passo la parola al buon dorme ho detto visto che ha rovinato che era uno dei migliori allora quelli ammaccati i ragazzi sono sempre migliori se li trovate ammaccati è buon meglio è meglio però questo lo avete messo troppo sparato bene dragon e rocchi rossi buono stanno meglio della prima volta la bella abbiamo trovato cura non stiamo dicendo che la prima è andata male non è andata nostra questa è il vostro però non è avuta a sentire queste cose ci chiamo a posto terion di bromancer di bromancer scareclo secondo lascia un po a desiderare con le prime rate segreti scusate è rimasto un pezzo qualcuno mi scannerà per questo abbiamo noi abbiamo questa scuola qua abbiamo di no una sales ban poi abbiamo un altro libro ma non sei qui voi e poi una ruina ragazzi qua c'è un bel mostro 3.2009 è un'altra lady liberi e poi un altro scuola ok diciamo questo è una box come normale ci piace ci piace dai la segnala benito sempre per l'ultima bustina di questo the water libro monster di una morte al che da piante bufolici c2 lasciamo perdere 3 buddhi volito che rende usce un altro spoiler double agent e ogni mortal dragon e poi abbiamo ragazzi insincro e poi c'è un mostro e ariana la signori quanti arianne questo non avevo visto uscire sicuramente ok vabbè ragazzi non male da gg quanti anni sono scelto da questa è la buona parte quattro sicure apriamo le danze con un bel marco nero fino ad ora tutte belle tra le segrete molto carine sono usciti i primi mostri sempre dei promessi esatto un altro illegal night black queen borea storm the wicked wind e black queen shamal the sandstorm e starving venom preta power fusion dragon no peper no E' pieno di ala nere, ala nere, ala nere, però non riuscite a mettere una, ma dove? Esatto, no, non ancora, scurriamo solo il reddito, gemlight, inordia, eeeh, 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 Gigi, no, non credo che a chi piace andare a vedere, eeeh, scartor, bravo, Yule, scartor fusion, Magico, eeeh, uh, Illusion of Chaos, e, un'idinomorfia terrizia, l'ador era, si, ma è vero! Buono, Illusion of Chaos, due delle rare segrete di Battle of Chaos, si, una delle migliori era Illusion of Chaos, esattamente, e poi c'era anche Belizia, eeeh, 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 Il tuo amicone, lui, eeeh, 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 il tuo amicone, lui, eeeh, eeeh, il tuo amicone, il tuo amicone, amicone odiato, ti odio ancora tanto, si, è vero, lo ammetto, è così, eeeh, andiamo con l'altro, io amo aprire il box, via! Pendulum, questo nella prima parte non è uscita, anche se io ho un box esterno, l'avevo preso e l'ho trovato, un box esterno, colpa tua, colpa mia, naturalmente, è pure colpa tua! Abbiamo scritto Axtra, Libromancer, Ice Jade, Libromancer, un'altra, sta cosa enorme, dinamorfia, Scisor, Ice Jade, Cosmo, eeeh, 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 eeeh wallie wallie stanno uscendo solo un'altra doll mostre una scatta 40 similesi un'altra ricca una signorina un rito di america questo gg non mancano non mancano non mancano ai jade minomorfia brutte il bromancer il bromancer bonded il bromancer il bromancer esistere destruction che è un bel sincro che è lo scherzo al dragon insieme a un magico ribo vabbè curibu è sempre uscito dai non possiamo dire no a curibu siamo arrivati al quarto siamo al quarto no in realtà è il terzo no non è il quarto è un galaxy ice volum dragon stanno uscendo tutte diverse grazie e stranamente non abbiamo visto il secret drago come secret drago speriamo di non trovarlo e anche il blanco bello non posso dire niente ormai ne è uscito uno è già qualcosa di strano non avremmo parte quindi e beh e beh il server drago? no duri e knollia dictator of the maple maiden e abbiamo un mostro che ha uuuuuh un visa star frost il 7 ne sarà più 0 0 e allora è hoogin 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 bene proseguiamo proseguiamo o no? ora ti minaccio ora ti minaccio proseguiamo allora andando avanti un po' di posi come un hand un fire opal head dinomorpio stealthbergia the agent of destruction vince la prima castira sangri era questo è la prima notore qui è questo red ice zombie running lost mattina di 3 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 non è stile lo fa si allora ultima bustina di questi team chissà cosa ci riserva il futuro un po' di comunelle questo sicuro dinomorfia di plus terri in charge patissielle coventura e poi un master of chaos e dopo il master of chaos Questo non c'è riuscito proprio, penso che lo voglia Voleva pure Bene bene bene, proseguì Vorrei lasciarne qualcuno però Dai stiamo portando E' un tizio muscoloso Utopia E' neos E' effettivamente più muscoloso di lui E abbiamo neos come promu Lo buttate così Ormai senza vergogna Allora iniziamo subito con i predapiante Perché sono belli Libromance Scareclaw Wall-E Charon Speramente tutti ieri Uh numero C 132 Ice Chain E' Pit Knight E' Un Let's go on the race E lo zombie vampiro Bello, bello Zombie vampiro è sempre bello Ricordo che lo zombie vampiro è una bellissima carta Molto molto bello Che è pure buono Bello, bello Libromance Forza andiamo No, Melfi Scareclaw Libromance Scareclaw No, ora stanno uscendo in successione Therion Cross Oh, Mosquito Mosquito Melfi Quanti alba Cacatus La voglia, voglia Gli ne ha più le mette Uh, buono Dark The Dark Sophia Scareclaw Che bello Sei bella Scareclaw Blue Ice Tyrant Grado Jaegoon Jaegoon E poi abbiamo L'altra fuffa Tanto l'avete visto cosa si trova Quindi Non la facciamo vedere Andiamo più Spariamo la visione La seconda parte Andiamo più sped Inomorfia Sonic IJ Light It's Combine Trongate Supreme Cimar Kiket 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 Rix No 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 Ripper Femme E Rikard Scareclaw E poi Mm Alice Very good Ah, non Rissampo Do Rissampo 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 Picky Pic 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 Rainbow Dragon Rissampo Poi è riuscito Subito Ad aspettare Fino all'ultimo Però Per averlo Ebbene È stato Come dire Più Pirotecnico Sì Perché L'abbiamo chiamato Tutti Centonella Vole Sapevamo Che era L'altro L'abbiamo Soperto Per ultime Sono stati Bravi Ragazzi Abbiamo Fatto La sorpresa Finale È vero Sono sempre Per teccare Dole Dole Questa non era mai uscita Black Queen Zonda The Dusk Spellbound E Una Macraker From the Underworld Non dispiace È un Branded Bashment Non dispiace Non dispiace Secondo Pacchetto È la sorella Della Della Turgare Sorella Cugina Qualcosa A un grado Di parentela Novo Ai Ruiz Wandering Grafum Rider Spendere 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 Graf Dragon Exorcist Stella Stella Grazie Grazie Un'altra Win Incredibile Bellina Win 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 Il Programore Buono Boy Wow A Una Io del caos very very nice e sono rimasti solo ultimi quattro cinque ultimo lui più tempo perde più o meno apriamo questo tutti di benora tutti diversi e neanche un teaser allora proprio po 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 libro monster del lion sempre insieme sono questi due crosskipper naturi amo il cricket unica la riuscita di bella oltre e un altro c'è il tonico basta ci sono tanti ben amiconi quali tg vecchi ricordi vecchie memorie luglio i ricordi del diattimo che era lento zombie zombie non mi dispiace benzeri che era attaccato io non lo so exo sister michael es gigi numero non lo sai però ho detto che ne riusciravano tante per bene va bene ormai le cv staglia perché come abbiamo accennato già la prima parte ne servono tre bomba wallie bebe overfusion draconic pendle e poi una fusione master of chaos vabbè questo qua direi a base le pelute a bustina a parte buono merding sì dai un bel ferro che fai dici di no sì esatto bene picchi picchi pic un altro red eyes mi dispiace la seconda rossina c'è vabbè ma meglio del cyberdragos di world esattamente no, non è vero, non è vero povero cyberdragos non è perché almeno ci piace perché abbiamo visto troppo pedro, pedro, pedro cosa ci farei trovare oggi, pedro non si chiederà chi è pedro, pedro non è vero smile partially freezing curses lapswell zealantis prima secret e arian the labry che bella very very cute guarda, non ci ho incontro no spero di no ma che zii io non voglio zii mi rifiuto e noi diciamo zii zii scherklop 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 icirocus laufin puffin puffin geek boy alba pecatus pecatus eee tip si chiama due tip è un recfobia vedi? vedi? questi team stanno andando abbastanza bene e l'albaccatus e l'albaccatus vabbè stanno andando mai bene come i primi in questione yes wow brutto dinofia io penso dicendo stand up io penso dicendo albricone norton dragon chinook vedi vedi eee vesa star frost no vedi veses veses non sarà più un problema ne mancano più ne mancano più non ne mancano più dei veses scusi il dragonero lo asciocco giusto giusto ultimi tre team signori e signore eee c'è un buon culo vedi sempre più vedi vedi cosa ci riserva la promo e lui e lui è tornato se la magna cosa si mangiano si non dire ma speriamo di non trovarlo nell'ultimo i jade ursatic neomorfia una dei water painter draconi pentagonic mortal dragon synchro red eyes zombie e un altro lupellion te l'ho detto che era questo quello buono l'ha scelto salvo lo prendo a corpa il signor gosse non sa scegliere la prossima volta non lo faccio scegliere però buona non si può lamentare la prossima volta non si può lamentare 99 it is conclusion good gift libromancer libromancer alert poffin 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 scherco l'arrivo spiritualist ehi il dinamite power è un anterio l'ultima bustina di questo tren questo bustina la farò aprire ora qualcun altro se si sbriga magari si sbriga buona sera signor p vai signor p questo onore a me ragazzi questa è la prima bustina che apro quindi devo trovare qualcosa di bello bello l'obelion abbiamo un x scombina ancora non la finisco di stamparla però tipo 72 mila nel figuoglio vabbè sì penso che si terranno viste tipo non so quante volte qua c'è la super quindi torniamo indietro è bella questo è un po' meno questo è figo questo è perché gli hanno cambiato l'effetto si l'hanno messo per come dovrebbe essere ecco ehi ancora niente ancora niente no ma quante comuni ci sono ah ok è alba loss l'ultima questa ora c'è la segreta andiamo con le ultra che iniziamo vabbè dai è carino però e poi continuiamo con una bella running flashing fire e le infusione e poi abbiamo un mosto i 1500 5 è schifo ti perseguitano perizia mi perseguita veramente metti qua dentro tutti questi sono tutti e due tuoi adesso sono miei sono gli ultimi due tuoi che devi aprire in che senso che quelli sono tutti i tuoi quindi continuiamo beh a me si arriva ad intemperare mamma ragazzi allora ancora il mestre maduro è uscito solo a gigi so ma allora facciamo quindi sono tutti i miei questi sì bellissimo ragazzi allora io prevedo cinque draghi volvere di stelle no no purtroppo non è uscito mancuno nemmeno uno non abbiamo aperto questi e non è uscito mancuno e non è uscito con noi mmmm manco zero 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 mancuno ne andiamo veloci perchè questo è bellino mi piace l'artwork da psuel da psuel è uscito questo birro è bellissimo se no la devono fare ultra comunque Mosca Moschito Scareclo Arrival bellissimo non lo trovo perché è troppo bella mi sto per cambiare ok è la seconda che trovi messo allora e se non uscire la nera non è riuscito vabbè per forza devono uscire la nera perchè sennò non li fai uscire vorrebbe un melphys un penny una patient license madonna comunque stanno allungando troppissimo si madonna terion duke yul unix lumbar il little knight zia lantis bella zia lantis e il disco lo seo bellino bellino bene ah ma già sono finita si non capisco subito vai con l'ultimo tin di questa spostata saremo capaci di trovare la testa di exodia il un bel mago no la testa rexodia ragazzi si accettano scommesse testa di exodia testa di exodia polvere polvere nessuno io te l'ho detto che usciva l'ultima volta eh però è bello il cyber droga veramente è bello veramente è bello ragazzi è bellissimo ragazzi è bellissimo ragazzi sono bellissimi romani il nostro alba zit bello bello albre quello adesso è il secondo andiamo con l'ultima sempre velocissimi velocissimi non si può aprire c'è qualcosa ci può essere l'infinito e ci può essere astra cross l'ho preferito vabbè è figo oltre però comune ma non parte 2 è un labirinto bellino bene 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 io direi che si può sono andato molto bene sono andati molto bene questi dei forti ragazzi dalla regia è tutto arrivato è un grandissimo saluto a luglio un saluto enorme tagliamogli le dita iscrivetevi commenti mi piace grazie di gassi ciao ai prossimi ragazzi ciao ciao